Salve a tutti popolo di Youtube e benvenuti a questa nuova puntata della Gamers The Gang Io sono Schiattatore994 e mi trovo qui a fare un fantastico gameplay di Sergeant Simulator Dunque questo gioco è un gioco indie in cui dovremmo fare delle operazioni Il fatto è che abbiamo soltanto la nostra fantastica mano e è molto difficile prendere oggetti e coordinare questa mano Perché sapete per ogni dito c'è un tasto differente e è molto difficile in quanto Penna, penna Ecco, ci sono riuscito a prendere la penna solo che non penso che l'impugnatura Penna del ca... penna, io ti odio Ok dai, bando alle ciance, andiamo a fare la nostra prima operazione Ok Trapianta di cuore Tizio simpatico questo Molto simpatico Vabbè Dunque Iniziamo Che schifo Allora Dovremmo togliere tutto questo bel... Non hai bisogno del tuo torace amico mio Perché l'orologio si slaccia da solo? Ok Dunque No Sto rompendo però dai Rompiti Non serve Via martello Dunque Passiamo ad un attrezzo molto più... più simpatico No 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 Mi sono già a punto No No Perché Ah Ho preso l'antidoto Mi sono a punto con l'antidoto Ok Amen Ok Tranquillo amico, tranquillo Non sta succedendo nulla Sono un bravissimo chirurgo La gente viene da tutte le parti del mondo per farsi operare da... Mamma mia che pena Mi soddisfiace, provo per qui su Allora, notare in alto a sinistra Posso vedere il livello del sangue Ma perché? Oh Ok Ora Dopo averlo tagliato in questo modo E non aver tolto il ben che minimo osso da dentro Io Proporrei Oh Attenzione Poggia Ok Qui abbiamo Polmoni Polmoni, eh Simpatici Dunque Questa tazza sicuramente ci tornerà molto utile per l'operazione Direi di Usarla un po' Aspetta Va qui questa Oh No vabbè dai, a parte gli scherzi Dunque, questo polmone Direi che non serve Eh, lo possiamo Possiamo toglierlo No Ottimo Non si toglie Devo tagliare un pochettino meglio queste Queste costole che non servono, eh Sì, sì Sì, sì Così, così Così Ok, molto meglio Vedi come poso gli attrezzi in modo minuzioso e attento Ok Lo lasciamo poggiato qui Un polmone Che poi magari ci potrebbe servire Eccolo lì Eccolo lì, il nostro amico cuore Che dobbiamo Sta morendo il mio paziente Ma Scusa, via Sono gli spiriti Orologio Mettiamoci un orologio Quello è per tenere il tempo del cuore Dunque Allora Come lo togliamo questo cuore? Dovremmo tagliare qualcosa forse Ancora No, no Prendi oggetto Pre Pre Ah, sì, sì No, no Questo Questo No mi prende la bottiglia Sicuramente Eh Tagliamo Forse non è così che si fa esattamente Ma Allora Queste siringhe Oh È quasi morto Presto Fagli una puntura Che cosa fa questo Questo stago Niente Penso di aver finito a peggiore la situazione Ok Dunque Questa è stata La mia prima operazione E Forse Vabbè Sì Non ci sono riuscito E Vabbè Chiunque voglia farsi fare Un trapianto di cuore Me lo faccia sapere Che ci penso io Quindi Spero che vi sia piaciuto Questo Stupidissimo Gameplay Ci vediamo Oh mio Dio Ma c'è il Viagra Ci vediamo a una prossima puntata Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.